Bellina, buongiorno a tutti, mi chiamo Bellina Armati e faccio parte del comitato di difesa del territorio Eguo. Noi siamo, noi siamo, si sente adesso? Ok, siamo della Marzica, veniamo dall'interno, dalla parte nord della Marzica, nel cuore dell'Abruzzo. Allora, il problema è questo, partiamo da una situazione di base che già è molto depauperata. Intanto tutte le risorse economiche in Abruzzo vengono spostate, i soldi europei, eccetera, vengono spostati sulla costa, quindi c'è già una volontà politica di depauperare la zona interna, la stessa zona da cui viene Sefora, Seforenzaghi del No Power Cup di Avezzano. Il nostro territorio quindi viene depauperato dal punto di vista economico, poi viene depauperato perché nella nostra zona c'è un problema di cave, cioè tre comuni sono interessati da un'ampissima zona di cave e ci vogliono far passare per ripristino ambientale un impianto di compostaggio di fanghi industriali, anche se apparentemente noi abbiamo fatto le nostre manifestazioni, le nostre azioni hanno tolto apparentemente i fanghi industriali, ma comunque si tratta sempre di un privato, quindi un'evidente tendenza alla privatizzazione, come diceva il ragazzo prima, di tutte queste attività con la visione di posti di lavoro e di ripristino ambientale. I posti di lavoro sono sei, non c'è lavoro, sono sei posti di lavoro e ripristino ambientale quindi di 130 mila Euro poi è stato torto. Il ripristino ambientale delle cave ha i piedi di una riserva ambientale che è quella di Primo-Sirenze e poi, così va meglio, così basta, ok. Allora dicevo, facciamo intanto dagli anni 60 hanno creato un cratere di cave enorme, ci entrano 270, mi sembra, campi di calcio, una cosa spaventosa, un fronte di scavo di 40 metri, hanno cavato per anni senza pagare i comuni con la, diciamo, sud di tassa delle amministrazioni comunali, prima cosa. Seconda cosa, passano per il ripristino ambientale questo, diciamo, per il ripristino delle cave, questo impianto di compostaggio da 50 mila tonnellate sotto il Monte Velino e sotto l'area archeologica di Alba Fucens, un gioiello che non conosce nessuno, che non viene valorizzato, che viene lasciato, ci possono anche pascolare le pecore, è lo stesso. Mi dica? Ah, ok. No, pensiamo di distruttare qualcosa. Allora, la soprintendenza, il parco non possono fare nulla, c'è un atteggiamento supino, la gente, diciamo, gli amministratori, le persone, i presidenti dei parchi non sono mai scesi, se non per farsi pubblicità elettorale, sono scesi con noi solo una volta in piazza, c'è questa situazione gravissima in un Abruzzo dove c'è un aumento esponenziale e la nostra è una di quelle zone delle situazioni, delle patologie oncologiche, quindi il cancro, le ocemie e via discorrendo. Quindi non è come Renzi dice, mi hanno detto stamattina, nello sblocco Italia, inceneriamo, bruciamo, compostiamo per la salute pubblica. È una bugia, è un bugiato quest'uomo, andasse e tornasse a casa a fare il Boy Scout, che è l'unica cosa che sa fare. Grazie.